Consiglio comunale sull'edilizia scolastica proposto dalle opposizioni a Campobasso in discussione, gli ordini del giorno proposti dalle minoranze per avere risposte, tra le altre, in merito alla cosiddetta scuola Ponte in Contrada Selvapiana, progetto della giunta Gravina come soluzione transitoria per ospitare alunni di quelle scuole da risistemare. Sulla scuola Ponte abbiamo avuto anche modo di anticipare che probabilmente non sarà più un mutuo ma riusciremo a trovare le risorse nelle pieghe del bilancio chiaramente tenendo conto quelli che sono gli equilibri e questo significherà per l'anno scolastico 24-25 avere una struttura che ospiterà per la strane maggioranza tutta la scuola Dovidio, mentre per gli istituti sul quartiere CEP procederemo, vista anche l'opportunità che ci viene data con i fondi destinati a questo, ad una locazione proprio per cercare di evitare di spostare le scuole in zone diverse. Mentre per la Francesco Dovidio avevamo questa necessità anche perché disponiamo di 6.000 metri quadri che ci potranno tornare utili, ecco questo lo voglio dire, perché in un futuro se vogliamo avviare questo sistema di sicurezza dell'edilizia pubblica ci dovremo porre il problema anche di trasferire qualche ufficio pubblico in una zona, per esempio come quella di Selvapiana, che terminati i lavori della nuova scuola potrà ospitare anche uffici per garantire la messa in sicurezza di altri edifici pubblici. Per l'opposizione ci saranno ricadute negative. Noi abbiamo una soluzione alternativa, la soluzione alternativa è prendere i 3 milioni e mezzo destinati, che è questa giunta destinata a Selvapiana e destinarli invece alla riattivazione dell'Enrico Dovidio di Via Roma, che è chiusa ed è una scuola, quindi che venga riattivata l'Enrico Dovidio e in questo modo non si creeranno disagi per il personale ATA, per i docenti, per gli studenti, del Dovidio che adesso è in Viagorizia e Piazza della Repubblica, in questo modo si avranno i tempi e i modi certi per poter avere comunque una nuova scuola a norma. Presenti in aula anche esponenti delle scuole cittadine, associazioni di genitori, altro tema al centro del dibattito, i ritardi per i tempi di consegna della scuola di Mascione. Si poteva transare, visti gli aumenti dei prezzi, allocando altre risorse che la giunta ha trovato in modo abbastanza agevole per finanziare Selvapiana, avrebbe trovato risorse di gran lunghe inferiori per poter transare con il consorzio che ad oggi deve portare a termine i lavori e consentire alla scuola di Mascione di poter ritornare operativa. Oggi i fondi sono molto limitati, assorbiremo completamente il ribasso, ma al tempo stesso chiediamo anche una maggiore disponibilità dell'impresa, perché questo vogliamo evitare un contenzioso che sappiamo se si apre un contenzioso, si veda per esempio l'edificio ex poliziano locale, che è chiuso da oltre 10 anni, potremmo non avere il risultato. Quindi stiamo lavorando davvero per chiudere questa situazione. Probabilmente il mese prossimo partiranno i lavori per la Montini, che è chiusa da anni ed è trasferita nella zona industriale. Il Consiglio Comunale alla fine ha respinto l'ordine del giorno di Tramontano, che proponeva la sospensione dell'intervento programmato sulla Dovidio e in subordine la riattivazione della casa della scuola di Via Roma, respinto anche quello del PD sulla scuola di Mascione.